nuovo appuntamento con la nona puntata del grande fratello vip 7 alfonso signorini ha scelto di dare inizio alla serata con pamela prati la presenza della showgirl nella casa di cinecittà ha riportato inevitabilmente l'attenzione sul famoso prati gate che la vede protagonista con mark caltagirone mai esistito e non solo infatti in questa intricata vicenda sono protagoniste altre persone vicine a pamela come la sua ormai ex agente eliana michelazzo proprio quest'ultima rilasciato delle dichiarazioni a verissimo sabato scorso il 15 ottobre 2020 la prati non era del tutto impreparata infatti signorini in diretta ha fatto sapere che la gfina è stata messa al corrente prima della puntata di stasera del fatto che avrebbero parlato ancora del prati gate la prima volta che la showgirl ha parlato del caso nella casa più spiata d'italia è stata durante la puntata del 10 ottobre scorso questa volta pamela si è ritrovata ad ascoltare le rivelazioni di eliana michelazzo nel salotto di silvia tofanin inoltre la showgirl ha saputo che l'avvocato di uno dei bambini messi in mezzo in questa triste storia sebastian ha assicurato che pamela non è tra gli indagati dallo studio il legale della prati ha spiegato nel dettaglio la situazione è ancora più sconcertante sentire più campane la verità sarà lunga ha dichiarato in studio rietta berti sonia bruganelli invece ha avuto difficoltà a esprimere il suo pari non credo abbia voluto usare volontariamente i bambini perché non è la regia ma in sei mesi la versione più credibile è che le abbiano consigliato di non andare più a fare ospitate sapeva che il tizio era un figurante ha fatto le foto per il suo adesso lei cosa può rispondere secondo me il problema non è se lei è complice o vittima lei da questa situazione ci ha un po anche giovato vorrei che lei uscisse da questa storia io non mi fido di una che è così diva e cerca così tanto la tele la puntata di lunedì 17 ottobre 2022 è andata avanti con un confronto tra antonino spinalbese ed edoardo donna maria tra loro è nata un'amicizia all'interno della casa che sembra già naufragata i due si sono scontrati dopo la scorsa puntata a causa delle nomination il tutto avrebbe preso inizio dalla gelosia provata da edoardo per il rapporto che si stava creando tra antonino e antonella fiordelisi i due addirittura si sono anche avvicinati attraverso queste discussioni